Amiche e amici di Rossini TV, bentornati, bentornati a questo format con la struttura di Fisioradi Medical Center, Checkup Obiettivo Salute, giunto alla sua terza edizione e questa sera inizieremo una nuova serie di puntate del 2024 con Maurizio Radi, il titolare di Fisioradi Medical Center. Maurizio, buonasera. Buonasera a voi, buonasera a tutti coloro che ci ascoltano e speriamo che anche quest'anno possiamo portare in formazione come tutti gli altri anni perché è quello che vorremmo fare con questo format e con questa trasmissione. E noi ci daremo proprio questo obiettivo e partendo da quello che ha appena detto Maurizio Radi, prima sentivo parlare di un aneddoto, sentivo parlare di un aneddoto per il quale una signora che era proprio qui pochi minuti fa a fare la visita di fisioterapia da Maurizio Radi e a un certo punto gli ha chiesto, ma Maurizio, ma lei è quello che tanti anni fa mi visitò per la prima volta così, quasi in maniera improvvisata e adesso la ritrovo a fare il fisioterapista in questo centro? È lei Maurizio Radi? Sono io Maurizio Radi, detto bene, raccontato benissimo l'aneddoto e anche perché questa signora era venuta a casa mia quando ancora stavo proprio iniziando, si può dire, a muovere, non i primi passi ma a muovere le prime mani, insomma, ero proprio all'inizio ed abitavo qua a 500 metri in via Metauro e quindi la signora mi ha proprio detto ma lei era quello in via Metauro? Dico sì, ero proprio io perché era venuta per caso perché il mio inizio poi era stato qua con la squadra calcistica del Vismara e il presidente della squadra me l'ha mandata perché era una sua dipendente, aveva avuto un torcicollo, quindi ha detto ti mando io e quindi da lì si può dire siamo partiti insomma. E quindi in effetto è stato un ritorno a casa perché oggi Fisio Radi è nel quartiere di Vismara, è un elemento di grande prestigio peraltro che tutti coloro che abitano in questa zona apprezzano e ammirano anche perché effettivamente in due anni e mezzo sono stati raggiunti dei grandissimi obiettivi. Però questa signora evidentemente aveva visto qualcosa che era già dentro di te Maurizio, nel momento in cui hai detto io mi ritrovo a fare un qualcosa che è una disciplina non facile, non istintiva ma di grandissima soddisfazione, la fisioterapia. Da dove nasce questa vocazione? Ma questa vocazione si può dire nasce da due situazioni. La prima io sono sempre stato uno sportivo da giovane e quindi facendo sport, all'epoca correvo in bicicletta e andavo o il venerdì o il sabato a fare un massaggio per cercare di recuperare meglio possibile la settimana per poi gareggiare quindi o il sabato o la domenica. E da questa situazione diciamo bella di uscire dal massaggio per poi preparare la gara della domenica nel tornare a casa ho avuto un incidente, quindi un incidente ero col motorino, mi ha investito una macchina, frattura della rotola e quindi un mese immobilizzato e a quel punto dovevo poi tolto il gesso e riabilitarlo. E sai, come hai già detto prima, sono passati tanti anni, all'epoca la fisioterapia non è la fisioterapia di oggi o perlomeno non era poi una disciplina, professione così conosciuta. E quindi quando è arrivato il momento di farmi riabilitare ho avuto difficoltà a trovare un fisioterapista per poter fare riabilitazione. Quindi tra una difficoltà e l'altra, nel cercare il fisioterapista e tra questa, diciamo, tra virgolette sfortuna, disavventura, poi ho conosciuto questo mondo, il mondo sanitario, perché poi all'epoca il primo che mi ha dato una mano da questo punto di vista, tutti se lo ricordano, era il vecchio Nello, vecchio massaggiatore all'epoca della WL Basket, che alla mattina mi faceva andare in ospedale, prima di andare a scuola perché lui lavorava in ospedale, e mi ha dato una mano per iniziare a piegare il ginocchio. Poi fortunatamente, come ho detto, facevo il ciclista, quindi quando il ginocchio è arrivato 90 gradi ho iniziato a pedalare, ma sono rimasto affascinato dal mondo ospedaliero, da questa disciplina di poter poi essere utile per le persone, a poter aiutare le persone, mi sono innamorato di questa professione e da lì è scattata la scintilla, un po' anche contro naturalmente l'idea all'epoca dei miei genitori, perché sai vai a fare il fisioterapista, all'epoca il babbo aveva un'attività, quindi primo figlio maschio, mi vedeva con lui, e quindi insomma c'è stata un po' di difficoltà, poi alla fine sono riuscito ad entrare e ho percorso tutta questa strada, diciamo insomma con piacere, perché poi quello che volevo fare è quello che oggi faccio, che mi piace, che ancora oggi mi diverto lavorando, come dico sempre e lavoro divertendomi, quindi questo non mi pesa e oggi questo piacere di fare una professione che ho sempre sognato, che ho portato avanti negli anni, sinceramente è un grosso piacere e ancora posso pensare di andare avanti per tanti anni e cercare di continuare ad aiutare le persone. È bellissimo questo concetto, è bello anche il concetto che hai detto di tuo babbo, vedono quei genitori che quando magari il figlio decidono voglio studiare filosofia, ma cosa vai a fare? Il filosofo no, in realtà si studia filosofia e poi si aprono tantissime porte nella vita, per la fisioterapia magari non era proprio così, però mi metto nei panni di una persona che 40 anni fa ti ha sentito dire qualcosa del genere e adesso è il luogo in cui ci troviamo, questo salotto e questo terzo appuntamento che abbiamo voluto riproporre grazie alla tua struttura e alla nostra di Rossini TV, proprio per portare un qualcosa di più a livello di informazione nei confronti della gente, magari con dei tempi anche più larghi e conoscere meglio anche i professionisti. Detto bene, questa deve essere una trasmissione per continuare ad informare le persone e tutti quelli che ci ascoltano, perché secondo me oggi per quanto è cresciuta, per quanto si è sviluppata la fisioterapia o per quanto si è sviluppato l'ambito, il mondo medico, ancora ci sono magari persone che non riescono ad avere il concetto di quando affidarsi a un operatore sanitario. Dico operatore sanitario perché possiamo andare dal fisioterapista al medico specialista abbracciando un po' tutte le specialistiche mediche fino poi a tutto quello che è la diagnostica. Quindi è proprio questo che vogliamo continuare a trasmettere e nonostante sono due anni che promuoviamo la nostra attività tramite voi di Rossini TV, tramite i social o anche tutto quello che potrebbe essere il marketing generale, ma ci rendiamo ancora conto che le persone hanno proprio delle volte la difficoltà di capire a chi affidarsi. Certo e questo è sicuramente una modalità giusta e opportuna per portare fuori questo messaggio, un messaggio che tu porti fuori anche a livello profondamente professionale perché sei stato relatore in tanti congressi, sei addirittura stato docente presso un'università, la Unica Millas di Roma, quindi hai vissuto proprio l'esperienza anche della docenza e dell'insegnamento e della formazione vera e propria. Cosa ti sei portato dietro? Perché sicuramente tutto ciò ti ha fatto sì che tu studiassi ancora di più. Hai proprio centrato il bersaglio. Molti pensano che magari andare a fare il docente è un qualcosa che tu porti e tu magari trasmetti agli altri della tua esperienza, della tua conoscenza. Ma andare a fare il docente vuol dire sempre rimettersi in gioco, vuol dire continuare a studiare e anzi studiare sempre di più perché poi quando vai a tenere una relazione a un congresso o vai a tenere un corso non sai chi ti trovi di fronte. Poi è brutto dirlo ma sai io inizio ad avere una certa età quindi l'esperienza come detto universitaria è stato bello a parte diciamo un traguardo quasi impensabile quindi un coronamento di un sogno o anche di una serie di situazioni che si sono create negli anni ma quello che è stato bello è aver tenuto lezione per dire a fisioterapisti giovani ragazzi che erano già tutti laureati che facevano questo master quindi un post laurea tutti i ragazzi che lavoravano da uno a tre anni e quindi con una mentalità diversa magari è una conoscenza diversa della materia e quindi anche questo confronto si può dire tra il vecchio il giovane quando alla fine oltre a passare l'esperienza però è una fonte di crescita anche per me perché poi alla fine magari hai una visione diversa della fisioterapia vista oggi dal ragazzo giovane ma il ragazzo giovane che non ha vissuto magari tutto il passato che abbiamo vissuto noi e quindi non hanno nemmeno la conoscenza di quello che poteva essere un intervento ortopedico di 25 anni fa e confrontarlo con quello che è oggi. Quindi per me il fatto di andare ad insegnare e a tenere le lezioni non è solo quello di portare ma è quello molte volte di invece riportare a casa tante notizie che poi possiamo confrontarci anche all'interno della sede con i ragazzi che collaborano con me che poi sono più giovani e quindi tutto questo ci porta continuare a sviluppare tutto quello che stiamo facendo giornalmente e a confrontarci tra di noi per cercare di dare sempre un servizio migliore ai nostri pazienti. Quindi veramente insegnare per imparare Maurizio che è proprio il concetto base di questo tipo di approccio. Peraltro tu adesso farai anche qualcosa con i ragazzi del nostro liceo scientifico Marconi qui a Pesaro, andrai a breve in Albania quindi è un'attività che comunque ti riesce bene e sicuramente ha un grande riscontro anche in chi ti segue. Sì hai detto ci sono altri diciamo due obiettivi questo il primo di andare a fine mese in Albania grazie a uno dei miei fisioterapisti che abbiamo qua il Fisioradi Medical Center che è albanese e quindi andiamo a scoprire un altro territorio e andiamo a confrontarci con colleghi esteri per vedere poi anche qua dove non sono arrivati loro ma dove siamo arrivati noi e vedere poi se magari un domani non ci possa essere un confronto continuo con altri paesi stranieri perché oggi la fisioterapia è cresciuta tanto in Italia ma è cresciuta tanto anche all'estero e in diversi paesi magari hanno visioni diverse di come affrontare il paziente. È stata bellissima una relazione di due docenti americani, un docente australiano a un congresso dove praticamente hanno portato la loro esperienza su determinate patologie e per dire dove l'applicazione dell'esercizio terapeutico in queste patologie dava un maggiore risultato rispetto a uno stesso trattamento senza esercizio terapeutico quindi banalmente dove delle volte noi pensavamo che per avere un risultato dovevi tenere a riposo il paziente loro hanno dimostrato con una ricerca a livello universitario perché poi in molti paesi riescono a fare questo che abbinando la terapia manuale al trattamento strumentale e all'esercizio terapeutico il paziente riduceva i tempi di recupero quindi anche questo può essere utile e andare a dice ad insegnare non lo sappiamo se andiamo ad insegnare o andiamo ad imparare anche qualcosa da loro invece per quello che riguarda il liceo scientifico sono stato contattato per poter andare a fare una relazione da loro e cercare di portare e di far capire magari questi ragazzi di quarta e quinta che sono vicini a una scelta cosa poter fare tra virgolette da grandi quindi che cos'è non solo la fisioterapia che cos'è il mondo sanitario e quale esperienza loro possono vedere in futuro e fare in futuro nell'ambito sanitario venendo magari anche a vedere il centro e magari chissà che anche per loro non sia a quel punto una scintilla per fargli scegliere nel loro futuro quello che può essere una loro attività per coloro che poi non riescono magari a sfondare nello sport questi ragazzi fanno liceo scientifico di interesse sportivo perché magari tutti forse possono avere un sogno nel cassetto un domani di diventare dei professionisti quello che avevo anch'io più di 30 anni fa che poi un incidente praticamente mi ha fatto cambiare idea però come dico sempre non sempre devi vedere le difficoltà come delle sfortune delle volte se sai leggere in quel momento la situazione in modo diverso quella difficoltà può diventare un'opportunità quindi portare proprio un messaggio ai ragazzi giovani di guardarsi bene a 360 gradi e magari venendo anche a visitare il centro capire cosa ci può essere in questo mondo certo un vero e proprio indirizzo ci avviamo dopo alle conclusioni prima però mi premeva chiederti un'altra cosa sempre a livello pubblicistico Maurizio perché mi sembra di aver sentito parlare anche di una tua pubblicazione o meglio di un tuo intervento in una autorevole pubblicazione sì sta per uscire un libro diciamo edito da uno dei titolari di fisioterapia Italia su un po' la fisioterapia sulla crescita dei centri sulla crescita dei professionisti in questo ambito e diciamo che in questo libro mi è stato dedicato un capitolo quindi per me questo è un gran onore e mi fa veramente piacere grande e questo quindi è una soddisfazione sicuramente che corona proprio una mentalità e una professionalità importante chiudiamo fisioladi medical center ci sono delle novità in arrivo si parla di un po' di riassetto anche per quello che riguarda il front office dovrebbe arrivare strumentazione nuova la TAC quindi è comunque un centro in continua evoluzione si siamo in continua evoluzione sai tu progetti una struttura cerchi di mettere dentro tutto quello che possa servire per lavorare al meglio e di metterlo dentro anche nel migliore dei modi ma come diciamo sempre è difficile oppure magari diversi di noi o di chi ci ascolta sa che anche quando fai una a casa diciamo sempre la devi fare la seconda volta per farla come la vorresti delle volte non basta la seconda e deve arrivare addirittura la terza e nella progettazione in quello che abbiamo fatto abbiamo fatto tantissime cose e si può dire che per il 90 per cento non abbiamo sbagliato un granché però ci siamo resi conto che per dire l'ingresso al front office la sala d'attesa quando c'è un discreto flusso di persone va un po in crisi quindi prossimamente cercheremo di variare questa predisposizione per cercare di dare un servizio migliore alle persone quando entrano dentro fisioradi medical center e riescono a capire bene subito dove possono essere dislocate con loro stesse dove devono andare per essere subito ricevute per le volte magari ci succede che troviamo fila su una postazione e magari le persone sono in fila non si rendono conto che la terza postazione può può essere libera e di conseguenza recarsi la per quello che hai detto dell'attacca l'attacca siamo partiti con un attacca con una minore risoluzione perché inizialmente pensavamo solo un certo tipo di accertamenti in questi due anni sono arrivate tante richieste di esami anche più particolari noi eravamo partiti principalmente pensando più a quello che era il nostro core business no che inizialmente era quello della fisioterapia dell'ortopedia ma poi avendo messo dentro altri professionisti ci siamo resi conto che le richieste sia dei professionisti interni ma anche dai pazienti esterni andavano verso un altro tipo di accertamenti a questo punto abbiamo deciso di fare questo investimento frine mese primi di febbraio arriverà un attacca diciamo da 128 strati quindi con la possibilità di fare tanti altri accertamenti ma quello che puntiamo dai primi di febbraio sia con l'attacca ma anche con la risonanza ad alto campo e di fare tutti gli accertamenti cardiaci sia in risonanza che intacca perché sappiamo che è un servizio che purtroppo nel nostro territorio viene a mancare quindi speriamo che da con questo nuovo servizio poi possiamo riuscire a crescere ancora di livello e per molte persone evitarli di poi trasferirsi fuori regione per questi accertamenti e questo è sicuramente un virtuoso esempio di sanità privata che viene davvero ad affiancarsi alla sanità pubblica per rendere più ampia l'offerta e per poter fornire un servizio sempre migliori a questo proposito l'ultimissima domanda si parla di accreditamento con la regione Marche che è bene distinguere non è convenzionamento bensì è un altro tipo di collaborazione si l'accreditamento si può dire che può essere un bollino blu come può essere bollino blu per il mare o può essere per dire l'iso 9 mila per le aziende diciamo che la regione Marche per accreditare un centro chiede dei requisiti che siano strutturali organizzativi per poter essere diciamo un centro di livello è normale che per ottenere l'accreditamento bisogna poi seguire un iter un iter che non è semplice perché ci abbiamo impiegato quasi un anno per avere l'accreditamento è normale che essendo un centro accreditato possiamo dire di aver scalato un altro gradino rispetto magari ad altre strutture e poi a questo punto chissà se le cose nel sistema sanitario nazionale cambiano e magari un domani ci può essere un aiuto dal privato al pubblico a quel punto se sei accreditato poi anche come hanno già fatto in altre regioni soprattutto l'Emilia Romagna creare una collaborazione tra privato e pubblico e quindi magari prestare per dire dei servizi come potrebbe essere la diagnostica per le aste quindi si tratta altro che a quel punto fare un contratto di servizio tra il pubblico e privato e a quel punto se questo potesse andare in porto noi saremo molto contenti perché potremmo riuscire poi a soddisfare anche tanti altri pazienti pensate quindi che evoluzione in questo centro nato due anni e mezzo fa è che è diventato davvero un punto di riferimento per la città grazie Maurizio Radi grazie a voi spero che di essere stato bello chiaro per tutti quelli che ci hanno ascoltato e speriamo che tutte queste cose possono essere poi un frutto che matura nel tempo sicuramente lo sarà grazie Maurizio Radi grazie a voi per averci seguito l'appuntamento alla settimana prossima grazie a voi